Un arricchimento dell'offerta universitaria calabrese ma anche un sostegno prezioso per la crescita della zootecnia, comparto dalle grandi potenzialità. E' questo l'obiettivo dell'ormai prossima attivazione del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro. Un cammino iniziato nei mesi scorsi su iniziativa del Rettorato della Magna Grecia di concerto con la Regione Calabria. Un risultato importante è avere presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro di nuovo la facoltà di veterinaria. Si formeranno nuovi giovani in un settore come quello zootecnico sul quale abbiamo deciso di puntare moltissimo anche attraverso per esempio il benessere animale. Ma importante perché la Regione ha deciso di finanziare a questa facoltà immediatamente un ospedale veterinario che sarà l'unico del centro-sud e quindi l'idea di ampliare la possibilità di formare i nostri giovani ma soprattutto in settori primari sui quali bisogna fondare la crescita del futuro in questa Regione.